Un vertice per fare il punto sulla questione autovelox di Bussi è stato fissato per domani, mercoledì 5 febbraio, nella sede della prefettura di Pescara. L'iniziativa arriva dopo l'appello del sindaco di Navelli, Paolo Federico, e commissario della comunità montana, Montagna, che aveva chiesto l'intervento delle istituzioni per cercare di trovare soluzioni sui tanti multati da parte dell'autovelox installato sulla statale 153 nel territorio comunale di Bussi sul Tirino. Quando le istituzioni ci ascoltano, ha commentato Paolo Federico, è sempre una soddisfazione. Ora lavoriamo per puntare ad ottenere dei risultati concreti, cercando di porre rimedio a quelle situazioni spiacevoli e per certi versi ingiuste che si sono venute a creare con l'installazione dell'autovelox. La comunicazione dell'incontro mi è stata fatta dal prefetto dell'Aquila, ha detto Federico, la dottoressa Cinzia Torraco, e convocata formalmente dal prefetto di Pescara, la dottoressa Gerardina Basilicata, che ringrazio per la sensibilità mostrata. La riunione era stata sollecitata con una lettera ai vertici della regione, provincia e prefetti delle due province. Nella stessa si metteva in evidenza come le multe erano state fatte a cittadini che viaggiavano di poco sopra i limiti di velocità, che si spostavano per problematiche inerenti alla salute e al lavoro, e quindi hanno percorso più volte la strada, il fatto che l'autovelox per qualche tempo non era visibile dagli automobilisti, perché coperto dalla vegetazione spontanea. Tantissimi, peraltro, gli aquilani che sono stati immultati, e il giudice di pace anche su questo è già intervenuto, come spiega l'avvocato Ludovici. Sono state accolte le prime istanze di sospensiva delle multe, da parte di alcuni giudici di Pescara, che stanno seguendo il caso dei ricorsi contro il famigerato autovelox di Bursi, e sicuramente il fatto che siano state accolte queste istanze di sospensione inaudite altra parte, cioè senza ancora che si sia svolta l'udienza pubblica, è sicuramente un passo avanti e sicuramente fa ben sperare i ricorrenti che si sono visti appunto accolte queste istanze di sospensione.